Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Dying Light 2. La volta scorsa abbiamo passato una piccola parte dove effettivamente ho ripreso un attimo abitudine con i comandi di gioco, sono andato finalmente avanti nella storia e adesso forse ci siamo ragazzi. Stiamo per scoprire la verità e stiamo per scoprire Aiden, la sorella mia e tutto quello che c'è da scoprire sul passato del nostro protagonista e scoprire che forse Waltz non è così cattivo come sembra o come si è mostrato fondamentalmente ai nostri occhi. Anche perché in realtà lui non ci ha mai ucciso, non ci ha mai effettivamente colpito in un modo o nell'altro. Oh, un'altra trasformazione. Ah, i passi. Riesco a vedere i passi. Waltz, dove sei? Non si vedi questa volta, senti? Però a me sembra strano. Waltz non mi sta dando la... Cioè, da quello che si vede, da quello che abbiamo visto, non mi sta dando la sensazione di essere un cattivo. Ma quindi perché questo odio? Eccolo. Ah no. Questi qua sono dei nemici. Oh, merda. Come, non li ho shottati? Ma io mi ricordo che con la balestra tipo li shottavo praticamente. Invece ora praticamente non li shotto più. Eh, ma qua è un problema. Oddio. Si è buggato malissimo. Ah, si, quelle con L2 sono le uccisioni... Quelle silenziose. Si, ok. Mi ricordo adesso. Oh, merda. Ho rotto del cadavere. Eh, vabbè. Si, vabbè, i comandi veramente scomodissimi, cazzo. Io, vabbè, i comandi. Eh vabbè sì Un altro colpo dammelo Eh madonna io il combattimento non me lo ricordo Proprio qua Purtroppo Non ci posso fare nulla Però qua per esempio Non ci posso entrare Ma poi con la balestra perché non l'ho shottato Solitamente mi ricordo che io li shottavo con la balestra Forse devo mirare alla testa Cioè sì alla testa ok Li shottavo ma mi ricordavo che se anche non li beccavo Alla testa Li shottavo uguale forse perché ero di livello Più alto Oh non lo so Allora un secondo però io Nell'inventario Ecco questi qua Eh immunità ripristinata Questo qua invece era Era per i danni Questo frecce Frecce Dardi Peccato che le frecce non le posso convertire Io secondo sarebbe stato comodissimo Ah rende furiosi Ah ecco vedi questo è figo però Questo potrebbe tornarmi utilissimo E infatti ora mi sa che li metterò qua Al posto di questi Ehm Eccolo Articolo Rabbia Così c'ho i medipack Tutto Miya Stop him E' ancora viva E quindi lui l'ha trattenuta fino a questo momento Non ho capito Niente non mi ricordo i tasti Non ci posso fare niente Meno male che sono più forte Meno male che sono più Oh Ah no Pensavo mi fossi trasformato Eh però mi sa che ci siamo ragazzi Siamo molto vicini Alla fine Mia 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 Is that you? How do I get down there? Waltz 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 Vuoi vedere che devo affrontare Mia sorella Come boss finale Praticamente mia sorella Il boss finale Waltz? Che sta facendo Sta salendo Aiden I found the hangar With the missile launchers On the lower level Under the G block There are a lot of them The city won't survive The next attacks What? You were supposed to get out of here Get away from here now Do you hear me? The one? Shit Quindi la situazione è questa allora Eccolo Enough of this cat and mouse Aiden Leave I don't want to kill you Who's that Mia? You brought her here? Yes Now leave while you still can That's my last warning What is this all about? What do you need Mia for? She She She's alive? In a manner of speaking But why? Why have you been torturing her like this? You really don't remember anything do you? Give me the key And stop the missile strikes It's already too late Too late? The city had its chance Aiden Years ago Before my work was destroyed Many have died But more will be saved What? What the hell are you talking about? Why are you chasing me Aiden? What do you want? I promise Mia Promise what? Why do you keep pretending You don't know the truth? Focus Aiden Try to remember Aidy Aiden Come on Will you cure her? I'm doing what I can But she's weak Much weaker than the other children That's why she caught the virus But you can save her Aiden Unless You see People want to stop my research They can't see how close we are to finding a cure Whatever happens We must Whatever happens We must stick together No You didn't promise her You promised me No 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 You tortured us You were hurting me And Mia No Aiden I would never hurt my own child Oh Mia is my daughter And you know that Got you I was looking for a cure For her For everyone With your help Yes Now leave while you still Can't That's why I need this key Hey Waltz Waltz stop Missile launch Evident Proceed Ah Quindi in realtà Lei è la figlia L'aveva legato con lui Take one more step And I'll kill you Give me the key I can't Mia needs a Aiden If you take it She'll die The missiles will level the city There is no other way Quindi lui cercava una cura per la figlia Oh Ok Vuoi giocare Oh no Non ho messo Il coso della furia Ah si invece l'avevo messo Era Ah ma è quello Ok l'avevo confuso col simbolo Ecco Minchia Ma non mi sta colpendo però No Lui Non ho messo E riusci And祈vi La Oddio, mi ha buttato giù Certo, il combattimento è un po' macchinoso qua Perché non riesco a... non puoi scappare velocemente se non ti puoi girare Tu mi fai fare questo, agent Eh va bene bello l'attacco finale con il costo con il rampino vabbè ma ora si trasformano ora c'è il combattimento spettacolare dai il rage form non credo che finisca tutto così sarebbe troppo semplice da un certo punto di vista aiden aiden it's started you see what's happening we're running out of time si ma che non lo riesco neanche a stunnare cioè col joypad è veramente ingiocabile diciamo non lo posso niente non lo posso colpire quindi il tempo che si avvicina mi colpisce cioè impossibile ma mi ricordo che c'era tipo un counter che si poteva fare così no minchia la crisi giusto giusto ora no ecco ora c'è il combattimento figo walts it's our last chance you've always been like this aiden honest noble that's why she loved you so much missile launch imminent proceed to the nearest shelter x-13 is her last chance what would she say if she knew knew that everyone died because of her you're right you're right she wouldn't want this that's why she cannot find out what forever never end up aiden Aiden? Waltz, dove è la chiamata? Tu sempre è speciale, figlio. Più più forte che gli altri, ma tu hai deciso di scappare. Waltz, la chiamata. No, non voglio te uccidere. Tu guardi i infetti come sono la malattia. Tu combattisci per il ultimo rayo di luce morta. Ma tu non puoi vedere che ci siamo solo separati da loro per alcuni minuti di scoperta. La chiamata è con Mia e la macchina che finalmente cura a lei, Aiden. Ma tu non ci sarai a vicino. No, 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 no. Oh, oh. Ma tu non ci sarai a vicino? No, 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 no. No, 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 no. Give me the key, or you'll kill everyone. Do you understand? Stop! Eden, no! Mia? Go back, now! Mia, is that you? Aiden? What happened to you? Mia, the key. Without it, the city will be destroyed. Mia, you need your ventilator. I beg you. It's gone too far. Ah, bella gazzata Mia, please, breathe Honey, please, breathe Help me Hurry, the generator I beg you, Mia Don't leave me, please Is she... is she gone? Mia, fight There you go Fight on me Aiden? The missiles are launching soon If you were supposed to clear out of here, Luan Oh, bad time for your mother-head bullshit, Aiden Did you get both? Yes, Luan I found Mia And the key? It's gone What? The key's been destroyed, Luan Then undestroy it, Aiden Goddammit, those missiles will obliterate the city I can't stop it, Luan And the power? What if we kill the power in the city again? We'd have to get to the solar power plant It's too far Aiden, no Oh, no, 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 no There's gotta be something we can do Launch countdown procedure Energy Hey, the missiles We can detonate them Before they launch With the explosives that we found in that warehouse No Oh, okay Okay, that, that, that just might work I'll go after them Wait, Luan Let me... Stop her, Aiden She will destroy everything Launch countdown procedure Energy Aiden I've got the explosives But they need to be detonated manually I... I can do this You just have to get out of here If she destroys X-13 You will lose everyone Everyone you love I'm ready to set up the explosives Run! Is this city really worth you losing everything? Everything Permetti a Luan di far detonare le bombe O salva la Luan? Ma io posso salvarla Luan? I promised Frank That I wouldn't let you get Frank kept babbling I was gonna be the savior of the city Guess this is my cue Take an inhibitor, Aiden You can still stop her Save this laboratory Save me While you're still human Now She only has you Aiden Please Go This is the only way to save the city Ah, proprio non posso scegliere praticamente O forse devo insistere I won't let you die like this, Luan Even if the city pays the price But it's all I have, Aiden Don't you see? We can't both die Just get out of here already I can't I'm sorry I failed you I'm sorry I'm so sorry Hey, ma come fa senza il respiratore? Just get going kiddo Luan I'm coming for you I'm coming for you I'm warning you Get away from here Oh, God Daj Aiden, please I'm not kidding We don't have to die together I want to save the city I have to save it Aiden, please Just turn the fuck around I'm getting you out of there We'll get you out And then take care of the missiles There's not enough time You hear me? Stop! Luan I'm almost there Aiden Why the hell are you listening to me? Whatever you think is between us You're wrong Make one more move I'm blowing this place sky high Gunback You can't get out of time Not my problem Aiden, I've got your sister Get the one out of here Aiden, stay back I'm blowing this shit up Get out of here, Luan I'll do this For the last time, Aiden Get the fuck out We'll let you die here Oh, no No, no No, no No, no Shit, no No, please Oh, you destroyed everything No It's all It's all It's all It's all Quindi non li ho fermati i missili. Cazzo. questo immagino si possa definire come un bad ending perciò che mi sono? qui siamo? siamo? ci sono? aiuto! Vellidor, per qualsiasi attacchi vengono a la cantea di fish eye qui sono stati trattati e distribuati ripetere, qualsiasi attacchi vengono bel metodo per lavare i bicchieri questo qui sarebbe Iden a miracle the canteen managed to survive the disaster miracle you said it even the bottles didn't break but there's no one to drink half the city's population is what's your poison beer but only if it's not flat oh yeah a package from bangs for Frank well well no one wanted to talk to him for 11 years and now he's a freaking celebrity if that was for the night runners or give it straight to the one she's their leader now a video my people passed through recently you mean a pilgrim why do you ask I'm looking for a friend I thought he was coming here e' quello di inizio gioco beh direi di si in a way they say he was looking for his sister but he found someone else much closer and he chose to save her at all costs so why didn't he stay they said he was starting to change taking a drug that was destroying him people like him better off on the road ma si vede la faccia per la prima volta però hey you slide dog remember a deal you try to back out you won't be safe with me hack on and I ain't safe without you just lead the way to the ocean kiddo eh perchè loro avevano fatto l'accordo di andarsene verso l'oceano era la scelta che avevo fatto all'inizio gioco quindi ci sono diversi finali in base a cosa scegli e' l'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e Eh perché lui ha detto Dice appena finirà tutto questo Dice ce ne andremo verso l'oceano E così è stato E quindi finita così C'è qualcosa extra Ah no Non c'è C'è soltanto gioca campagna Però col plus probabilmente New game plus Esplora villador Ah probabilmente per farmi fare Le side quest e tutte le altre robe Se faccio continua Vediamo se posso Rifare il finale Ci credo poco in realtà Perché mi sa che avrei dovuto salvare io Però vediamo se posso fare il finale O forse mi fa rifare da salvare la one Eh esatto Hai completato la storia principale Ora puoi tornare a villador per completare le missioni E le attività open world in suspense Affinché ciò sia possibile Alcune delle tue scelte verranno annullate A partire d'ora il gioco si adatterà Ai tuoi progressi Per proporti una sfida adeguata E consentirti di ottenere Ami e equipaggiamento di grado superiore E altro ancora Eh quindi Quindi se io tecnicamente vado su Esatto non ho più la missione principale E infatti X13 Impresa completata Eh non la possiamo rifare giustamente Quindi E' davvero Davvero finita E' davvero finita Quella è stata Quella è stata la nostra fine Oddio quanti me ne ha dati Ah forse ora mi posso maxare Che Se il massimo è fino a 26 Eh sì Sono 12 e 12 Cioè sono 12 In totale 6 e 6 Quindi posso arrivare al massimo Praticamente Esatto Quindi pompiamoci Giusto per dare una chiusura All'episodio Sanno come un pesce Esatto Adesso siamo al massimo Non abbiamo più bisogno Di raccogliere inibitori E tutta altra roba Va bene Mi sarebbe piaciuto in realtà Vedere magari un finale diverso Ma credo che quello Lo andrò a cercare Poi personalmente A sto punto Da altri colleghi In modo tale da poterlo vedere Per vedere altri finali E niente Con questo bar Pieno di gente Che si diverte In Nara Del bombardamento Che riceverà a breve Noi abbiamo Terminato Finalmente Night Light 2 Quindi Grazie ancora Per essere stati con me E alla prossima Bye bye